La festa di Sant'Agata, la terza festa religiosa più grande al mondo. Catania nei primi giorni di febbraio si blocca completamente. Tutti scendono per le strade per festeggiare la santa patrona di Catania, simbolo di forza e resistenza al male. Catania in questi giorni ci delizia con le sue tipiche e caratteristiche tradizioni. Ma davvero Catania ha un così forte spirito religioso? Ho visto molta finzione in questi giorni. Ho visto anche poche cose che hanno a che fare con la vera fede religiosa. Allora perché molti catanesi festeggiano Sant'Agata se non si dimostrano davvero religiosi? Cosa spinge i catanesi ad essere devoti di Sant'Agata?